Ascoltando i vostri interventi ci sono moltissime assonanze, moltissime connessioni. Se dobbiamo dare un nome di un punto di vista teorico, come ho sentito parlare di antroposofia e altre cose, darei un nome che si chiama gruppo analisi. È una teoria nell'ambito delle psicologie dinamiche che viene costruita nell'ambito della scuola di Francoforte e ha come base un principio che è quello degli elementi democratici, addirittura sostiene che la democraticità è un fattore terapeutico. E io sono molto d'accordo su questa posizione e quindi è basata sulla complessità, su tutta una questione di elementi che voi avete, dal vostro punto di vista, espresso con altre parole, che però sono contenuti anche in questo che adesso vi dirò. E poi mi incuriosirà molto uno scambio su questo. Io mi sento un po' all'estero, però non tutto, non del tutto. Quindi adesso vediamo come va a finire. Io non so che dire, adesso andiamo. Allora, ho incominciato con una diapositiva che è un po' provocatoria. No, cosa c'entra? Ah, mi sono sbagliata. Possiamo riprendere tutto quello di prima. Please note that in this hospital death is a possibility. However, we will do our best to avoid it. Allora, questa è un po', come dire, una battuta un po' freddina inglese, che fa riferimento a quel po' di cinismo che dicevamo prima, per cui molte cose proprio sono partite da questo aspetto di un certo cinismo, che però, nel momento in cui efficacia ed efficienza sono a favore, va benissimo, perché dobbiamo sprecare le cose. Bene, allora andiamo avanti. La cura continua a sbagliare. Ecco, allora, un habitat relazionale. Il paziente, quindi parliamo di ospedale. L'habitat relazionale è un habitat che vede il paziente a centro e tutta una serie di altre figure che ruotano attorno, dove le relazioni sono concentrate verso il paziente come oggetto di interesse, ma ciascuna figura ha relazioni con ciascun'altra. E quindi io immagino un habitat ideale in cui il sistema delle relazioni si intreccia a favore di. Questo è l'oggetto principale, ma lo stesso discorso lo possiamo portare a San Cresci, in un certo senso, nel senso del sistema relazionale, che può reggere tutto quello che è stato detto. Perché tutto quello che è stato detto può reggere se c'è un sistema relazionale coerente con quello che è stato detto, se no non ce la facciamo. Allora, quindi questo è l'attenzione che io pongo attorno a tutto il sistema relazionale che sta attorno al paziente. Ma attenzione, non è che la cura del paziente a riscapito degli infermieri o dei medici mi vada bene, assolutamente no, perché vado a fare degli altri disturbi. Allora, l'idea è che creiamo una situazione che serva alla figura, al paziente che istituzionalmente è l'oggetto dell'interesse, ma che serva alla crescita di tutti quanti e al benessere di tutti quanti. Quindi in questo senso è un habitat sufficientemente buono, poi vediamo. Quindi, quando, ecco, vado al tipico elemento relazionale di base, che è il rapporto medico-paziente. Bene, il rapporto medico-paziente cosa si porta dietro? Cioè i due, medico e paziente, sono lì come due persone, ma il medico è se stesso come persona, il paziente è se stesso come persona, d'accordo? Poi, il medico si porta dietro nella relazione con il paziente, anche tutta la sua relazione con i colleghi, è dentro all'istituzione. Il paziente, tutta la famiglia, il medico, altro personale che sta nell'ospedale, tutta la rete amicale, tutto quello per il medico, il reparto, è un habitat lavorativo che il paziente si porta dietro ancora. Come dire? Nel momento in cui l'ospedale, la rete sociale, il curante, la funzione del curante, la funzione del curato, la posizione di e di, e la cura come istituzione, cioè a dire un fatto che è degli individui, ma è degli individui collocati in un contesto, il quale contesto è composto di tutte queste parti, l'uno per l'uno e per l'altro. E quindi l'intreccio è molto fitto, come potete capire. Quindi stiamo parlando di un'identità composita, quindi quando parliamo di tutti gli elementi istituzionali che ciascuna persona, nei diversi ruoli, si porta, stiamo parlando anche di aspetti identitari, laddove l'identità non è un monoblocco, ma è un insieme di tante parti, di tanti elementi che si intrecciano attorno a quella persona. Sempre parlando del rapporto medico-paziente, molto spesso ci si trova in situazioni di, che io chiamo, collusione narcisistica idealizzata. Mi risolverai tutti i problemi e io, medico, mi sento trionfante, voi capite. Il medico si sente onnipotente, il paziente pensa all'immortalità, nonostante l'avviso dell'ospedale che dicevo prima, e in questa relazione, naturalmente, la comunicazione sarà frutto di questa relazione. No, io parlo di comunicazione come frutto della relazione, espressione verbale della relazione, verbale non solo, ovviamente. E diventano dei monologhi, perché in realtà, se devono tenere a questa collusione narcisistica, non possono parlarsi, non possono comunicare, perché sennò poi scoprono l'inghippo. Ecco, benissimo. Questa situazione, naturalmente, non può che portare a frustrazione e delusione per ambedue, cioè all'impotenza. Viceversa, una posizione egoico-realistica, diciamo così, scusatemi i termini tecnici, però credo che siano intuitivi, ci parlano di un medico che si immagina delle possibilità, quindi una potenza, un possibile. Quindi all'interno della comunicazione c'è questo tipo di scambio e attraverso il dialogo, ovvero sia la possibilità che nella relazione si generi la comprensione, ma non solo per il medico e non solo per il paziente, ma per ambedue. E questo è l'inizio perché il paziente, un po' alla volta, possa capire qualcosa di quello che gli è capitato e di quello che potrà eventualmente fare come seguito. E questa sarebbe la situazione di soddisfazione o di pacificazione per ambedue, anche se la conclusione è in fausta, non importa. L'importante è che, come diciamo spesso, che io senta di aver fatto tutto quello che potevo e ho imparato tutto quello che potevo. Tanto, come dire, sa da finire. Ecco, io su questo sono un po' irritata. Anzi, vorrei che San Cresci mi togliesse da questo dubbio. Ma se io vengo a San Cresci e vivo a San Cresci, posso pensare all'immortalità o no? No, perché questo è il punto, capito? Quindi una relazione, e qua parlo di una relazione sufficientemente buona, citando... Come? Dicevo, l'immortalità è assicurata, basta farsi cremare, mettere i ceneri alla radice di una pianta e assicurare... Allora, guardi, questo è il mio progetto. Io ho un progetto, ho una passione che sono le rose. Infatti adesso, se poteste venire a casa mia, vedreste una collezione di una sessantina di rose sui tetti di Bologna, che non è niente male con lo sfum... Allora del tramonto, cioè all'ora degli imbrunori. Allora, lì, ecco, e infatti il mio sogno, ho già visto un posto dove c'è un museo della rosa vicino a Modena, cremazione, un po' di focherello, e poi tutto là. E questa è l'imposte dell'immortalità. Oddio, è un po' scomodo, e poi con tutte quelle spine, comunque vediamo. Adesso, andiamo, andiamo, ok. Allora, quindi parlo di una relazione sufficientemente buona, e cito, in questo caso, non so se è sbagliato, se è spostato, comunque cito un autore che si chiama Winnicott, che è, tutti conoscete Winnicott, che parla della madre sufficientemente buona, ma qual è la madre sufficientemente buona? È quella che è capace di relazionarsi attraverso la relazione, capisce e risuona con, quindi capace di attivare una relazione che è in grado di comunicare tutto ciò di cui le due parti hanno bisogno. Questa è la parte sufficiente, non è né Dio né né, ma è. Allora, dunque, in un caso di trauma, qualcuno prima l'ha citato, in un caso di trauma cambia e deve cambiare la rappresentazione del sé corporeo. Io ho avuto una sciatica l'anno scorso che vedevo di morire, ho scoperto, ma cosa vuol dire avere questa cosa? Vuol dire che il mio corpo funziona così, ma io per farlo tornare come prima o circa, devo capire dove sei rotto, perché sei rotto, eccetera, 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 e come fare a riorganizzarmi. Quindi cambio la rappresentazione mentale del mio piede, della mia gamba e di tutto quello che è il sé, la mia rappresentazione mentale dell'immagine corporea, insomma, che ho nel cervello. Quindi la riorganizzazione, ho fatto un salto brusco, dopo poi ci torniamo, ma non ho capito se si è spostata la diapo. Comunque, questa riorganizzazione implica quindi un adattamento ad una nuova rappresentazione, un nuovo schema corporeo, ovviamente. E quindi nella relazione, quindi la relazione di cui parlavo prima, mi serve per fare questa riorganizzazione e per acquisire conoscenze e competenze necessarie per diventare dottore di me, capace di avere cura di me, secondo la formula della famosa madre sufficientemente buona di prima. Quindi, attraverso l'interversione di una speciale funzione materna. Ok, adesso compare la mamma, che è sempre carina, poi la mamma è sempre la mamma, mi lasciate dire. Quindi una madre sufficientemente buona, come abbiamo detto prima, che è in grado di attivare questo processo di scambio in modo tale che io imparerò ad essere madre sufficientemente buona di me stessa di nuovo. Ma come? Attraverso, per esempio, delle conoscenze mediche necessarie. Cioè mi si è rotta, che ne so, sempre sull'esempio che citavo prima, il, come cavolo si chiama questa cosa che c'è qua? Disco. Ecco, disco. Lì, spunta l'ernia, me lo vado a vedere, vado a fare tutti gli esami e imparo tutte queste cose. Quindi, successivamente, nel momento in cui, quelle conoscenze mediche di cui ho bisogno, non voglio diventare medico, non mi frega niente diventare medico, ma mi interessa diventare medico di me, di quelle parti che sono problematiche per me. Allora, e tutto questo all'interno di un habitat relazionale, di un habitat relazionale che mi consenta di fare questo passaggio, quello che dicevamo prima, e una organizzazione all'interno della relazione, ho detto medico-paziente, adesso vorrei dire istituzione di cura e paziente, che sia, ovviamente, che offre delle buone pratiche, e una formazione continua, anche per gli operatori, perché vi ricordate, prima parlavo di come gli operatori siano la longa mano sull'istituzione, là dove l'istituzione si realizza e si pratica, attraverso una formazione continua, che deve essere tecnica disciplinare, diciamo così, ma anche relazionale, quindi nel tecnico io vorrei sempre mettere relazionale, purtroppo i medici non hanno questa formazione, e mi sembra una gran sciocchezza, questo a livello proprio dell'istituzione universitaria, non viene riconosciuta, non viene data, ed è un guaio. Quindi l'organizzazione dovrà essere basata su delle buone pratiche, che devono essere condivise, si deve creare una comunità in tutto questo, perché la cosa funzioni, l'intreccio di cui parlavamo prima è un intreccio che significa valorizzare gli elementi comunitari di tutte queste figure che lavorano insieme. Quindi buone pratiche, che vuol dire condivisione, vuol dire discussione per gruppi, che partono dall'esperienza, e questo è il lavoro che ho fatto poi nell'ospedale che dicevo prima, formazione continua, che è tecnica relazionale, di nuovo io li divido per consuetudine, ma secondo me dovrebbero andare di pari passo. Relazionale che vuol dire metabolizzazione della sofferenza per trasformare in professionalità, per trasformare questa in professionalità, in conoscenza e competenza. Ci sono moltissimi studi che ci dicono come coloro che lavorano con la sofferenza subiscono il famoso trauma secondario, soffrono, semplicemente lavorare con la sofferenza, genera sofferenza. In questi corsi che io ho fatto, non vi dico quanti medici erano davvero sofferenti, proprio, volgarmente si dice, si impasticcavano, scusate se uso questa espressione, però molti raccontavano che facevano uso di psicofarmaci, piuttosto consistenti. Bene, ma è una roba che può andare bene? No, è ovvio che no. Non posso fare, come dire, fare delle buone cose a scapito di altri, non esiste. Il tutto deve relazionarsi all'interno di uno schema win-win, dove guadagnano tutti e c'è salute per tutti. Se no, abbiamo scaricato semplicemente il malessere da una parte all'altra. Che differenza fa? Nessuna. Ecco, allora. Quindi, l'elaborazione, quindi l'utilizzo dello scambio professionale, che vuol dire anche portare in gioco dei contenuti emotivi, che sono altri elementi di comprensione della realtà, significa, cioè sta nel metabolizzare quella che è la sofferenza e diventare, come abbiamo detto, competenza. Quindi valorizzazione del sistema, delle relazioni con i colleghi. Siamo in un mondo in cui la oicos nomos, ovvero sia la regola della casa, ci mette gli uni contro gli altri. Non si capisce perché. Un'economia che vede se tu vincente e io perdente o viceversa, è un sistema economico e quindi oicos nomos, nel senso della regola delle relazioni, che mi mette ah, tu vuoi... Quindi se io perdo e tu vinci, sai cosa faccio? Siccome so che tu mi vuoi fregare, ti frego io per prima e ti frego... Come dire? È il tipico pensiero paranoico questo. È una cosa assolutamente demenziale. Però è quello nel quale siamo immersi e che inconsapevolmente ci attiva. Perché non siamo consapevoli di questo, vi garantisco. Provate a pensarci, poi un'altra volta ci vediamo, mi dite com'è andato. Ecco. Allora, dove è andato questo pirulo? Quindi, l'idea è la creazione di un habitat relazionale sufficientemente buono. Io questo l'ho riferito all'ospedale, ma questo può essere riferito a San Cresci, proprio come sistema relazionale. E secondo me, un'idea così fantastica come è la vostra, non ve l'ho mai detto in privato, ma ve lo dico in pubblico, che è un'idea geniale, bellissima, entusiasmante. Ecco, su questo punto proprio, questo credo che sia il punto su cui si potrà reggere, sì o no, questa storia. Perché è una storia bellissima, ma è molto importante che l'habitat relazionale sia tenuto in grande considerazione. Ma sono sicuro che l'avete già pensato. Suffistentemente buono, di nuovo, anche lì, un qualche cosa di cui tutti si fanno carico, di cui tutta la comunità è impegnata a, su cui tutta la comunità è impegnata a dare risorsa e attenzione. Ecco, questo l'ho sottolineato, va bene. Ecco, qua era una critica alla storia dei medici. Ah, io sa, sono un po' psicologo, sa, non creda mica. Dai, cosa vuol dire, sono un po' psicologo? Sarebbe come se dice, sì, io sono un po' cardiologo, un po', un metà, un terzo, ma cosa vuol dire? Niente. Allora, io sono un po' psicologo, vuol dire che uno è psicologo, se si vuol dare quella, poi uno può dire la psicologia è una cavolata tremenda, chi se ne frega, va bene, uno dice quello che vuole, ma non può banalizzare, questa è la cosa che mi irrita, non può banalizzare una disciplina, un punto di vista che viceversa ha, come dire, delle buonissime carte da giocare e può essere utile, semplicemente così, come tante altre, mica inizi speciali. Però, ecco, la questione la dico perché appunto è molto molto diffusa questa banalizzazione e fanno dei danni pazzeschi le persone che poi si attivano in questa maniera. Quindi formazione alla relazione, alla relazione medica come parte della professionalità del medico. Ecco appunto, io sono un po' un cardiologo, appunto. Credo che, l'intervento, cosa vuol dire un intervento? All'azienda, adesso vi do i dati, abbiamo dato dopo i corsi, finirò per lanciare, dopo i corsi fatti, abbiamo fatto la valutazione dell'effetto che i corsi nostri hanno fatto sugli operatori. Abbiamo fatto un intervento in rianimazione pediatrica dove potete immaginare che il burnout è bestiale perché avere a che fare con dei bambini in rianimazione pediatrica è durissima e l'oncologia, anche lì non c'è da ridere. Abbiamo lavorato per un anno e mezzo, 20 incontri di piccolo gruppo a cadenza quindicinale, era lo staff, il gruppo, l'equip. La metodologia era la discussione dei casi clinici. Abbiamo somministrato questionari prima e dopo naturalmente confrontando aspettative iniziali e valutazioni finali come analisi qualitativa, profile of mood states come analisi statistica dello stato d'animo, ACL, adjective checklist per descrivere se come operatori e la checklist per descrivere i pazienti, quindi come si è cambiata la prestazione mentale dell'uno e dell'altro. I dati sono questi. Allora, profile of mood states, abbiamo visto che adesso ci voglio gli archivi se non vedo più niente, che allora il pre e post riuscite a vedere abbastanza? Ecco, il pre e post allora tensione aiuto ansia è diminuita la depressione avvenimento diminuito aggressività e rabbia diminuita vigore e attività sono cresciuti stanchezza e indolenza confusione e sconcerto diminuiti vuol dire che questi operatori si trovavano in quello stato è chiaro che il questionario ha orientato le domande su questi fattori comunque sia questo è successo dopo un anno e mezzo nell'ambito della rianimazione pediatrica poi ah vabbè qua ci sono i dati meno 5 meno 5 meno 6 più 4 meno 5 meno 2 va bene poi nell'altro caso la rappresentazione mentale di se stesso come operatore l'operatore rappresenta se stesso come meno onnipotente più soddisfatto di sé più autonomo e meno deferente deferente era un termine per dire dipendente però era il termine del test in questo caso invece descrizione del paziente il paziente viene rappresentato come più affidabile comprensivo è chiaro che si sta parlando della relazione più comprensivo più combattivo e resistente più empatico più sicuro di sé più recettivo agli stimoli e più autonomo quindi questo è come la relazione ha cambiato la rappresentazione di ciascuno di sé e dell'altro ecco e per concludere parlando di gruppi dato che io sono ah non vi ho detto sono psicologa dei gruppi clinici e dell'organizzazione ah sì gruppo analisi l'ho pur detto che dico allora in conclusione la funzione del gruppo degli operatori che era l'oggetto da cui si era lo strumento per aver fatto tutto questo era il gruppo degli operatori in conclusione la creazione di contesti gruppali per pazienti e parenti che desiderano partecipare alla costruzione della loro nuova identità quindi si parla di cura come costruzione di una nuova identità e va bene per lo sviluppo di una funzione riflessiva creativa e di apprendimento nell'ambito di un processo di formazione continua per gli operatori per i pazienti nell'ambito di un processo di conoscenza di sé continua si può fare lo stesso ragionamento anche in queste situazioni di cambiamento il coinvolgimento interdisciplinare i professionisti vicini e di discipline diverse quindi la possibilità di creare anche lì una comunità di contenuti di comprensione la comunità temporanea per il cambiamento dei pazienti per i medici e per se stessi il paziente inserito nell'ospedale diciamo così si colloca in un luogo tempo che nel momento della misura in cui riesce ad attivare gli elementi comunitari assume una maggiore capacità di cambiamento quindi un dinamismo identitario di nuovo parlavamo prima di ricomposizione di un nuovo schema corporeo e quindi di una nuova identità in un certo senso basta finito con questo ho finito ho finito si fa per dire come trasferire tutto questo a San Cresci punto interrogativo mi sono dimenticata di mettere la frase finale ha senso trasferire questo genere di pensiero nella filosofia di San Cresci secondo me sì naturalmente ci si deve lavorare ma come? esatto ai posteri lardo a sentenza